Finalmente i mezzi dell'AMAM possono tornare da oggi a circolare in libertà. Il mandato di pagamento per le polizie assicurative del proprio parco veicoli è stato emesso questa mattina. Il patrimonio di trasporto dell'AMAM che ammonta 25 mezzi tra cui un autogru e un autobot è rimasto bloccato per qualche giorno. Aveva subito un breve stop perché l'azienda Acque non era riuscita a pagare entro la scadenza dell'assicurazione. Si è trattato di un semplice disguido con il broker assicurativo, chiarisce il direttore generale dell'AMAM Luigi Larosa che non ci ha ricordato ed avvertito in tempo di pagare le polizze. Dunque non è un problema di ammanco economico nelle casse dell'AMAM perché stamattina è stata erogata la somma di 11.400 euro per coprire il premio necessario a garantire il movimento dei 25 mezzi. A denunciare l'accaduto sono state le sigle sindacali Filtem, CGL, Femca, Cisle, Wiltec, Will che avevano saputo di questo deficit finanziario dagli stessi lavoratori dell'AMAM. Una situazione assurda che poteva essere risanata senza diffondere alcun gossip di carenza di fondi disponibili per l'azienda. Il servizio di distribuzione dell'acqua in città non può essere attivo in fasi alterne con veicoli per cui ci si dimentica di versare le somme per l'assicurazione. Questo non è sintomo di efficienza dirigenziale neppure manutentiva. Non possono essere i sindacati a vigilare sull'operato di normale governo del presidente del CDA. Il direttore Larosa annuncia che l'AMAM ha presentato al progetto di escavazione di nuovi pozzi per ricavare nuovi fonti d'acqua. Si attende il risponso per ottenere la fattibilità del pozzo sondaggio in tre punti identificati dall'AMAM. Il prossimo 10 marzo è stato fissato un incontro tra i vertici dell'AMAM e della protezione civile per definire altri cronoprogrammi d'azione sulle condotte che riforniscono il territorio cittadino.